ciao ragazzi salve a tutti allora vi volevo aggiornare sulle piattaforme praticamente la piattaforma uTrader e la piattaforma iLOVE non prendono più traffico europeo quindi è rimasta la piattaforma finmax che tramite il programmino vpn prende il traffico europeo forse ne ho trovata anche un'altra però devo chiedere conferma se loro accettano traffico europeo e purtroppo a quanto pare stanno diminuendo le piattaforme perché comunque le piattaforme hanno un devono avere una lista delle nazioni che loro operano quindi l'italia non c'è allora io vi volevo far vedere come installare questo programmino vpn che comunque è un'estensione di di chrome e quindi poter accedere alla piattaforma finmax vedrò sto vedendo di cercarne altre speriamo che questo provvedimento cada dopo tre mesi se no questi vogliono praticamente togliere le opzioni binarie e ci stanno rendendo la vita molto difficile però io so che molti trader si stanno ribellando a tutto questo anche perché anche nel forex la leva è troppo piccola e per avere dei guadagni più grandi magari bisogna investire di più e la gente comune non ha molti soldi da investire allora vi faccio vedere questo programmino io poi questo link ve lo metto nel mio sito allora prendete il link che io vi do e aprite il il browser il browser sempre di chrome copiatelo e questo programmino questo link vi porterà a un estensione allora voi dovete aggiungere questa estensione cliccate qua e fate add to chrome io questa estensione l'ho già aggiunta e infatti vado qui un attimo solo che un attimo solo vado nelle estensioni allora altri strumenti estensioni e l'ho messa qui io questa estensione quando non la uso la la chiudo non la rimuovo proprio però la chiudo adesso che mi serve per accedere alla piattaforma vedete l'ho azionata una volta azionata voi di qui cliccate su connetti e vi potete adesso collegare direttamente alla piattaforma fate così andate www.finmax.com se avete il conto demo potete accedere al conto demo oppure al conto reale allora una volta collegato con questo programmino vi fa accedere al conto reale un attimo solo che a me internet non sta funzionando molto bene come vi ho detto io sono collegata col telefonino allora questo è il conto reale allora una volta che avete fatto trading dovete fare questa procedura andate su disconnetti e poi per maggiore sicurezza per non cambiare alcun dato del vostro computer andate di nuovo in altri strumenti estensioni e per maggior sicurezza chiudete questo programmino allora io questa estensione ve la metto ve la metto sul mio sito oppure se volete me la potete richiedere anche su facebook o per email allora questa è la procedura che si fa per per poter accedere a fin max loro mi hanno assicurato che comunque non c'è alcun problema a fare trading con loro però come vi ho detto la piattaforma un trader e la piattaforma hilo non accettano più traffico europeo e adesso sto vedendo mi sto muovendo per trovare altre piattaforme quindi chi volesse ancora continuare con le opzioni binarie lo può fare però chi si è già registrato a queste piattaforme può versare i soldi perché comunque loro non non è che chiudono il vostro conto praticamente io sto ancora col conto della b di swiss perché loro hanno trasferito il mio conto su un conto estero no e non è che mi hanno chiesto di chiudere il conto o qualche altra cosa quindi io ho ancora dei soldi lì e investo con loro quindi se voi vi siete già registrati su una piattaforma di questo basta che inserite i soldi credo che non ci saranno problemi invece adesso ci sono problemi anche nella registrazione allora questi sono gli aggiornamenti che vi volevo dare il link ve lo metto nel box qui sotto e appena posso aggiorno il sito e levo le varie piattaforme e quindi aggiorno il sito levando queste ultime piattaforme che non sono più buone per fare opzioni binarie mi dispiace di tutto questo perché comunque io penso che forse fra tre mesi questo provvedimento dura per tre mesi quindi si vedrà che cosa succederà perché molte persone si stanno ribellando e questo è pure logico perché oltre a quelle che hanno perso c'erano anche persone che comunque che guadagnavano belle somme e levare questa opportunità alle persone magari che sono senza lavoro levare questa opportunità di guadagnare quella 100 euro a settimana quella 200 euro a settimana è una cosa veramente pesante allora io spero di farvi al più presto un altro video come vi ho detto la mia linea un po va un po non va ci rivediamo al più presto quindi ciao e grazie della vostra attenzione